Sono stati aggrediti per aver verbalizzato una donna sorpresa questa mattina a gettare rifiuti fuori orario. Si trovano adesso ricoverati al pronto soccorso del Piemonte il commissario della sezione annona della Polizia Municipale di Messina, Biagio Sant'Agati, e un altro vigile urbano che si trovava con lui. Pare che i due vigili abbiano notato la signora a gettare il sacchetto e l'immondizia nei cassonetti che si trovano nella zona di San Michele, la parte alta del Viale Giostra. Le si sono avvicinati contestando l'eleffrazione, ma all'improvviso altre tre persone e tre uomini sono arrivati in difesa della signora e hanno aggredito i due vigili urbani. Dopo averli pestati, i tre aggressori si sono allontanati facendo perdere le tracce. Sul posto è arrivata una pattuglia alla sezione volanti della Polizia di Stato che ha prestato soccorso ai due agenti. Sono stati trasportati al Piemonte per essere refertati. Indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato che sta cercando possibili videocamere di sicurezza nella zona che possono aver immortalato i protagonisti del pestaggio.